I cattivi diranno che non si è riuscita nemmeno a fare top score perché di là fra le avversarie c'era una telara che è riuscita a farne una di più, ma negli ultimi minuti ha letteralmente ribaltato il risultato da un 19-20 a Savore ad un 23-20. Sinceramente top score Romeno non mi ha mai interessato, siamo contenti della vittoria, l'importante alla fine è vincere e poi se uno faccia 20 punti o 25 non è importante. Guarda, sinceramente la partita non l'abbiamo sottovalutata perché non bisogna mai dire che l'abbiamo sottovalutata, però magari abbiamo permesso alla squadra di provare nuove formazioni, nuovi schemi, quindi magari ci sta aver perso un set. Non è un problema, l'importante è aver vinto la partita e siamo contenti del risultato ottenuto, certo si poteva fare meglio, però siamo contenti tutto sommato. A fine mese siete attese al paranariotti dal big match in casa di quella capolista che sembra davvero troppo forte, l'AutoRev. Loro sono la capolista e se lo meritano, giustamente, però tutto sommato noi non è che ci stiamo preparando proprio al big match, Noi ci giochiamo partita per partita, quindi la prossima è contro la Normac, quindi ora ci alleniamo per quella. Finita quella penseremo all'AutoRev e sicuramente cercare di fare bene e chi lo sa si spera magari vincere e poter gioire questa volta magari, invece che la scorsa volta con un 3 a 2 persa al tie break per due punti è pesante, però ci rifaremo, ne sono sicura. Ci alleneremo con determinazione e umiltà, come sempre.